Si parla tanto in questi giorni del futuro di circa 120 operatori sociosanitari che hanno lavorato per un anno all'ospedale di Pescara e anche al Covid Hospital, contratti in scadenza il 30 aprile. Ora cosa accadrà? Perché ci sono state anche delle polemiche proprio nelle ultime ore. Ora, purtroppo quello che accadrà è molto semplice. Se questi lavoratori non hanno partecipato alla selezione e non si sono classificati tra le posizioni che saranno assorbite dalla ASL, perderanno il posto di lavoro. Avevamo già all'inizio di questa pandemia, a fronte dei decreti che autorizzavano le ASL ad assumere personale per l'emergenza e che prevedevano la possibilità di assumere personale con contratti a termine direttamente dalla ASL o anche attraverso altre forme di lavoro, tra cui le agenzie di somministrazione di lavoro come la Manpower, avevamo detto alla ASL utilizzare i contratti a termine perché avrebbero creato un percorso anche di stabilizzazione possibile per questi lavoratori. E per essere stabilizzati bisognerebbe avere lavorato almeno tre anni negli ultimi otto anni nella pubblica amministrazione, quindi non è così poi semplice, non basta lavorare un anno per essere stabilizzati. Partendo dal fatto che per entrare nella pubblica amministrazione e stabilito dalla legge e dalla Costituzione bisogna fare un concorso pubblico che possa essere un concorso per titoli d'esami, per prove o per solamente titoli. In questa vicenda cosa è successo? Nella gestione della pandemia l'ASL ha utilizzato la Manpower, oggi scadono, nel frattempo è stato pubblicato un avviso pubblico al quale è stato considerato, contrariamente a quello che ho sentito, ho letto dai giornali, anche il lavoro fatto da questi operatori perché nell'avviso pubblico c'era considerata l'anzianità di lavoro, una pubblica amministrazione anche per cooperative, per agenzie interinali e quindi anche per loro. Evidentemente a questo bando, nonostante qualcuno ci voglia convincere che nel pubblico impiego, il posto fisso non ce chiede più nessuno, hanno partecipato moltissimi lavoratori che magari per effetto dei titoli posseduti e l'anzianità hanno superato, ahimè, questi lavoratori.